La Francia non può più accogliere tutta la miseria del mondo. La Francia che amo è quella che spartisce, accoglie a braccia aperte. È il titolo del mio libro. Perché non dà lei l'esempio? Li prenda a casa sua. C'è una famiglia Roma bisogno e la benvenuta a casa mia. Grazie, grazie accoglie noi. Vai, apri. Dei Rom Rom? Certo, non dei CD Rom. Ah, però... Dove andate così? Noi lavora. Vestiti da peruviani? Rom, cattivo reputazione. Peruviani molto buono reputazione. Per te, signora Daphne. Ah, gentile. Ferma, sono pesci giapponesi, sono sacri. Molto buono, Sushimi. Sushimi molto buono. Ma insomma, c'è un maiale in cucina. Perché questa reazione da Borghese? Abbiamo un maiale in cucina? Si può essere più aperti di così? Casa mia e casa vostra. Stasera siamo tutti Rom. Noi vuole diventare buoni francesi. Tu non tocca, culo statua. Che state facendo? Io rifà sicurezza nostra casa. Babic ripara, Babic cambia. C'è integrato Babic, eh? Ma forse un po' troppo in fretta.